No, 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 signori, non vi impressionate, sono soltanto io, Fernandello, non mi riconoscete? State calmi, di prego, come dite? Paura, ma no, non si può aver paura quando c'è Fernandello in giro, e poi sapete, fu solo per me che si spalancò quel sinistro portone, e se non fosse mai accaduto, se quel maledetto gatto non mi fosse venuto fra i piedi, e Ottavio, ogni volta che di sera mi attraversa la strada, capita una disgrazia. Se il signore vuole seguirmi. Seguirlo? Già, sarei fuggito piuttosto, ma la sventura mi aveva ferrato e ormai mi perseguitava dovunque con le insidie più diaboliche e spaventose. E il fatto, devo proprio dirlo, da quella bestiaccia infermale di me, e perfino da alcuni intimi della gloriosa famiglia. Paura, eh, signora, e quanta? E che duri colpi per il mio sconvolto cervello. È vero, signori, giuro che è vero. La paura va proprio a Novanta. No. No. Ho trattato delitti molto strani. bello. Belasso. Belasso. Divinengo. Divinengo. Ho trattato delitto molto successivo. Ora non posso dirvi come andò a finire Ma rassicuratevi I vostri cuoricini non trepideranno Tanto si sa Le paure degli altri Vanno sempre Specialmente le nuove Arrivederci dunque E buon divertimento